come fare le misure su un trasformatore cioè come capire se questo coso funziona o no prima cosa proviamo la resistenza degli avvolgimenti solo che a volte questa resistenza è molto bassa e sembra che sia tutto in corto perché io qua ho delle letture di 0,4 ma sui puntali cortocircuitati ho delle letture di 0,3 e 0,4 quindi voglio dire siamo lì come capire se funziona? vediamo un po' induzione magnetica io prendo un telefonino, glielo avvicino dopodiché mi telefono e vediamo un po' se riesco a leggere qualcosa in microampere ecco ed ecco che ho delle letture come vedete su ogni avvolgimento io ho delle letture nel momento in cui tolgo il telefono le letture scompaiono ho visto? lo diamo qua che ne pensate di questo metodo empirico? grazie a tutti